Manfredini ha portato in vantaggio l'Atalanta al quarto del primo tempo su una bella mezza rovesciata dopo un errore di Zaccato, paletta difessore centrale del Parma al decimo della ripresa saltando in testa su un bel cross di Giovico. Nel primo tempo c'è stato parecchio lavoro per consigli quando l'Atalanta era in vantaggio molto bravo il portiere atalantino in particolare su calci da fermo di Giovico nella ripresa il gioco come qualità è un po' calato di importante da ricordare e sottolineare soltanto il sabbataggio di paletta sulla linea dunque alla fine il risultato 1-1 è un risultato giusto.